Il mistero del Vescovo è soprattutto quello di un padre, ma è anche quello di essere un fratello. Inizia presto la giornata di Monsignor Zuppi, Vescovo in bicicletta, vive in una casa di riposo per sacerdoti a Bologna, Don Matteo per le tante anime, le pecorelle, forse direbbe lui, che lo hanno incontrato in questi anni, prima a Roma, alla comunità di Sant'Egidio e adesso nell'Arcidiocesi di Bologna. D'altronde lui stesso si definisce Vescovo di strada, creato cardinale da Papa Francesco il 5 ottobre del 2019, crede in una chiesa che abbatte muri e costruisce portici, una definizione perfetta per la città di Bologna. Ma avete mangiato voi? Io ho mangiato le ragliatelle, che mi sa che mi fermo a Bologna con tutte le ragliatelle. E infatti l'abbraccio di Bologna è stato immediato e questo bel docufilm, diretto da Emilio Marrese, lo racconta. L'incontro con le solitudini, le periferie umane e spirituali. Dal palco del primo maggio ai centri sociali, dai profughi agli esclusi di ogni genere. La macchina da presa segue Zuppi nella sua giornata, anche nei momenti centrali del suo apostolato, con l'aiuto della musica di Bob Messini e con la complicità di Alessandro Bergonzoni, che intervista Monsignor Zuppi in un originale faccia a faccia. Il contrario della paura, a mio parere, comunque non è il coraggio. Il contrario della paura è sempre l'amore.